Si chiama Che cos'è il misticismo? Commento Nella condizione umana il misticismo è la non-identificazione con ciò che sentiamo di essere. Nella mistica cristiana si chiama estasi. Nella mistica indiana si chiama samadhi. Per i maestri immateriali il misticismo perfetto è l'identificazione con l'assoluto e avviene al termine dell'evoluzione dell'essere.